In questa giornata di certificazioni ho imparato la forza del gruppo, soprattutto attraverso il Mastermind, perché condividere con altre persone le proprie idee, i propri progetti, ci ha aiutato a tirare fuori delle caratteristiche e delle nuove soluzioni a quelli che potevano essere per me dei problemi. Quindi è stata proprio una bellissima giornata di condivisioni e vedere proprio come la condivisione aiuta a crescere. Perciò ringrazio Giuseana Maria per aver creato l'Energeti Club e aver dato la possibilità a tantissime persone di aumentare la loro consapevolezza e soprattutto di vivere una vita più felice, più serena e più appagante, soprattutto la mia. Grazie.